Il Napoli è una squadra fortissima, ha giocato ieri e si vede che ha vinto contro una squadra alquanto forte, quindi noi siamo pronti e cercheremo di dare il meglio. Comunque credo che loro sono abituati perché sono tutti giocatori che da anni fanno più partite in una settimana, comunque sono giocatori che giocano Champions, Europa League da un bel po' di tempo. Napoli per me, mia mamma è di Napoli, quindi vado spesso lì e mio nonno era un grandissimo tifoso, quindi andavo spesso allo stadio a vedere le partite del Napoli. Abbiamo dimostrato, nonostante che siamo una squadra giovane, di giocarcela con tutti e siamo pronti già da domenica a far di meglio e speriamo di raggiungere una vittoria. Molto bene, sto recuperando piano piano perché comunque sono partito molto indietro rispetto agli altri e mi sto allenando e cerco di spingere durante gli allenamenti per ritornare alla miglior forma possibile. So di non stare al meglio e magari nessuno è felice quando non gioca, quindi quando sono stato chiamato in causa mi ero solo prefissato che nel momento che il mister mi dava l'opportunità comunque di entrare in campo devo dare del mio meglio. Però io non temo nessuno, anzi posso solo imparare da loro perché so che sono giocatori fortissimi e mi alleno e quando vengo chiamato in causa cerco di dare il meglio. Appena ho saputo la notizia del Sassuolo, comunque il mister mi chiamava per chiedermi se volevo venire e io gli ho subito detto che nel caso usciva un'offerta concreta con il Sassuolo io avrei subito accettato e sarei venuto qui. Come il primo giorno che mi ha visto lui mi ha subito detto che avevo delle qualità, dovevo solo impegnarmi e dare sempre il massimo. Io l'ho fatto e lui mi aiuta tantissimo. Il primo giorno che mi ha detto che dovevo giocare mi ha solo chiesto di divertirmi come ho sempre fatto e lui infatti devo ringraziarlo tantissimo. Ho due grandi obiettivi, spero di uno dei due di raggiungerlo. Il primo è che abbiamo i mondiali con la Nazionale Under 20 che è comunque un evento importantissimo e il secondo è l'Europeo Under 21 qui in Italia. Quindi spero di andare in uno dei due e giocarmela come sempre. Devo dire la verità, come i nuovi compagni quest'anno quando sono arrivato qui ho trovato un gruppo fantastico che i grandi soprattutto, comunque quelli che ho più esperienza, riescono a farti capire magari dove stai sbagliando e cercano di farti migliorare giorno dopo giorno. Io come ho detto prima cerco solo di imparare da loro. Io come ho detto prima cerco solo di riparare da loro. Grazie a tutti.